E' stata la responsabilità di essere sindaci l'evento che ha tagliato il nastro alla 5 giorni della festa dell'unità di Pesaro 2021 che fino a domenica 29 agosto si concentrerà in Piazza del Popolo ospitando personalità del mondo del Partito Democratico ma anche voci extra PD come il segretario CGL Maurizio Landini previsto nella serata di giovedì o come la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini in un confronto con la deputata del Partito Democratico Alessia Morani in cartellone sabato sera. Primi microfoni dunque accesi su chi ha vissuto sulla sua pelle gli estremismi delle difficoltà di essere sindaco fino a spiacevoli dispute processuali come Maurizio Mangialardi oppure esperienze scomode coi propri concittadini come Giuseppe Paolini a Isola del Piano e Mauro Dini a Lunano e chi addirittura ha finito per scontare una pena di custodia cautelare come l'ex sindaco di Lodi Simone Ugetti. L'ex presidente della regione Marche Luca Ceriscioli assieme all'eurodeputata Simona Bonafè ha completato la serata inaugurale allargando il tiro sulle possibilità di ripresa attraverso i fondi europei. Una prima giornata in cui una fetta di cittadini fedeli a una certa inclinazione politica ha cominciato a riappropriarsi di una frequentazione abituale dell'estate pesarese. Una festa che si adegua al periodo, tutti i frequentatori devono infatti esibire il Green Pass per accedere ai dibattiti, alcuni ne hanno anche approfittato per firmare il referendum per l'etanasia legale con il banchetto affiancato al perimetro della festa. Uno stand che venerdì sera sarà anche arricchito della presenza di Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e promotore dell'iniziativa referendaria.